Possiamo dire che questa partita decontestualizzata fuori casa all'Aquila ha portato bene alle zebbre. Com'è andato secondo lei questo match un po' combattuto e un po' che ci ha tenuto col fiato sospeso? Innanzitutto non eravamo fuori casa, eravamo in casa. L'Aquila è stata straordinaria, sentite la mia voce, che è stata una partita molto difficile. Abbiamo giocato in 16 perché c'era questo pubblico meraviglioso. Partita molto, molto difficile e alla fine è andata bene. Aggiungerà anche molto bene, spettacolare. Penultima giornata di campionato, che cosa si aspetta dalle zebbre? Quali sono i vostri prossimi obiettivi per il futuro? Abbiamo ancora due partite, cercheremo di fare bene, abbiamo già superato il record di vittoria della nostra storia nel POR 14, ma soprattutto stiamo lavorando per l'anno prossimo.